ciao a tutti e tutti benvenuti in un nuovo video io sono Maggie oggi vabbè è sabato e sono all'incirca le sei e in pratica sono andando dai miei colleghi di lavoro mi sono fermata un attimo così siamo sicuri che c'è la luce visto che ho notato che in gran parte dell'ultimo dell'ultimo si anche del primo e del secondo vlog non c'è la luce quindi adesso mi sono fermata e quindi c'è la luce comunque oggi c'è una giornata bellissima perché dovrò andare anche da una parte che vi porterò comunque con me allora continuo il video sono stata ovviamente praticamente dove c'è la chef ruggio che hanno fatto tipo una gara dei ragazzi dell'alberghiero del post ovviamente di prato ho fatto la foto con chef ruggio però devo aspettare tipo una settimana perché andrà sul sito del parco coppia ovviamente è questo adesso si va a casa spero di non aver perso qualche grande perché poi non sapevo che era tutto sto sambaralan mio sinceramente e in tutto ciò che quando sono andata lì sono salita sul palco sono rimasta tipo oh mio dio e quindi salvo no vabbè però comunque sia è comunque uno dei tre chef tu miei preferiti quindi cioè se mi trovo anche gli altri due è il tuo ok perfetto potrei morire in pratica in pratica si potrei morire non so ancora il titolo di questo vlog però penso cioè non lo so sinceramente non ho idea tanto mi sficcia fare i vlog quindi è questo e io adesso vado a prendere l'autobus come ho già detto spero di non perdermi anche questa volta però già sono andata più una volta e ho messo a serio pericolo me stessa nel senso che sono passata su un ponte dove sotto passavano le macchine e sto tipo mi prego l'avevo quasi ce l'avevo ripresa ma l'ho dovuto cancellare poi quando riverrò rifarò penso il video non lo so sinceramente se vado di nuovo in panico come in quel momento sì così ho anche un modo per andare avanti continuare per sconfiggere le mie paure sì perché sono qui sul web per sconfiggere le mie paure le mie paure più grandi perché chi non mi conosce mi va bene vabbè a parte i miei amici il gruppo family e scoprirete anche voi tutto quello che ha passato fino a qualche anno fa non penso che mi sarei fermata tipo a salutare a fare foto con un personaggio del genere cioè non per qualche cosa perché io sono la parte più timida tipo salve cioè neanche salve mi ha detto andami c'è qualcosa che non va io di solito sono così ecco e in pratica questo ma di solito sono molto breve coincisa nel parlare non tendo a parlare tantissimo anzi parlo anche fin di troppo poco e quindi salve ho incontrato Chef Rubio io ancora non ci credo che mi sono fatta la foto e questo video comunque uscirà adesso e poi dopo vedremo come sarà uscita la foto quindi non so neanche come sia uscita la foto e spero che sia uscita bene spero io voglio tipo saltare urlare no veramente in questo momento mi sto trattenendo però so del tipo dell'aria bene io vi lascio e ci vediamo più tardi comunque ho bloccato due secondi fa perché in pratica ci stavano il mio coppetto di tre ragazzi che praticamente mi parlavano dietro e infatti fa foto ah devi aspettare la foto e non vedo bene si vorrei vedere se avrei non so quanti iscritti se continuerebbero a parlarmi dietro oppure oddio c'è statizia oddio comunque io continuerò a fare web cioè me ne fregerò mai di ciò che mi dicono gli altri un giorno e non me ne seguirò mai Grazie a tutti